Buona giornata amici da Massimo Fughetti, oggi è venerdì 23 settembre 2022, il sole è sorto alle 6.55 e tramonterà alle 19.07, questa è la rassegna stampa di Fano TV e come sempre leggeremo i giornali con cronaca locale dal resto del Carlino e dal Corriere Adriatico, ci sono notizie importanti questa mattina, li vedremo tra breve, intanto iniziamo con l'almanacco, con il santo del giorno e oggi dobbiamo dire la verità, è un grande santo, oggi si festeggia San Pio da Pietralcina, Che dire di padre Pio, non basterebbe credo tutta la nostra trasmissione per parlare della sua vita, della sua azione, della sua missione, le stimmate, il profumo misterioso che emanava il suo corpo, i carismi, le profezie, le guarigioni, le conversioni, questo e tanto altro per un frate Capucino che con la sua semplicità confutò la ritrosia dei grandi E poi il resto vi invito a conoscerlo, magari leggendo la sua vita Passiamo anche alle previsioni del tempo, vediamo come nella regione Marche i cieli si mantengono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata I venti saranno al mattino deboli e proverranno da ovest, al pomeriggio saranno invece moderati e proverranno da est, il mare è poco mosso, le temperature si aggireranno, sono ancora abbassate, in modo particolare la minima E si aggireranno dai 13 ai 20 gradi, insomma comincia a essere proprio autunno perché proprio oggi dovrebbe essere il cambio di stagione Oggi apriamo eccezionalmente la nostra rassegna stampa a partire da una notizia che viene pubblicata sulla pagina di Pesaro ma interessa un po' tutto il nostro territorio In modo particolare anche Fanu, vediamo subito il titolo Diamanti, maxi truffa, bancari nei guai Proponevano l'acquisto dei preziosi ma l'investimento era un flop È un raggiro questo da 100 milioni di euro, sono coinvolte 107 persone sotto accusa in 2017 Vedete la vastità, l'estensione di questa grande operazione Vendevano diamanti ai loro correntisti come investimento redditizio In realtà era una trappola La banca Suasa, con una filiale a Fano, ora assorbita dal Banco Marchigiano Che comunque è completamente estraneo alla vicenda Proponeva preziosi ad un costo superiore alla reale quotazione E lo sapeva, e lo sapeva, e questo l'importante Gli unici a ignorare erano invece i clienti che compravano in buona fede Ed erano in tanti, 107 ne ha scoperti la Guardia di Finanza 107 in Fano ed intorni I quali hanno versato una cifra considerevole e complessiva Di ben 2,5 milioni di euro La banca Suasa incassò provisioni gonfiate per 300 mila euro Questo accadeva tra il 2014 e il 2015 E lo ha scoperto appunto la Guardia di Finanza di Fano Dopo lo scoppio dello scandalo dei diamanti nel 2019 Grazie ad inchieste giornalistiche che ci sono svolte un po' in tutta Italia E allora venne alla luce un raggiro di quasi 100 milioni di euro Messo in piedi dalla Diamond Private Investiment E dal suo patron Maurizio Sacchi Arrestato poi nel 2020 E rimesso in libertà con il sequestro di tutti i suoi beni Ora, come andrà a finire questa situazione? Ci sono stati diversi rovesci Per quanto riguarda gli istituti di credito a Fano Ricordiamo benissimo una banca privata Che operava, che lasciò un po' sull'astrico di vesti risparmiatori Ricordiamo anche quello che accade poi Per una gestione di fondi da parte di un altro istituto Insomma, è un problema anche quello di investire i propri denari Speriamo che questa situazione si risolva con la restituzione del maltolto Ed ora diamo un'occhiata veramente alla pagina di Fano Del resto del Carlino Dove l'apertura è dedicata alla situazione del lavoro Una situazione che si fa sempre più critica Meno lavoro, dice il resto del Carlino oggi E anche la Profilglas Che è un po' il leader delle aziende fanesi Che occupa tantissimi dipendenti, circa un migliaio È in preallarme Che cosa è accaduto? È accaduto che la domanda sta ralentando E i costi dell'energia non scendono I sindacati sono preoccupati per il quadro generale Soprattutto per quanto accade nel settore della metalmeccanica Ebbene, ieri c'è stata una riunione Una riunione alla Profilglas Che occupa circa 750 dipendenti Ma poi con l'indotto questi lavoratori aumentano considerevolmente Si è svolto un confronto tra la proprietà e i rappresentanti interni Presenti anche i tre rappresentanti della metalmeccanica provinciale Bassotti per la CGL, D'Antoni per la UIL e Zaffini per la CIS La grande azienda cittadina sta avendo un rallentamento Per cui sta cercando di ottimizzare i costi e la gestione del personale Tenendo conto che è di fronte anche ad un'industria energivora Per l'antonomasia Ovvero è un'industria che tiene costantemente 24 ore su 24 i forni accesi Quindi pensate quanta energia elettrica consuma E i costi li evitano assai Ma non è solo la Profilglas che è in preallarme Anche la Flonal e Isain Fissi di Paolo Andreani In un quadro dove si parla anche di cassa integrazione E si aggiunge ora anche l'Alluflon di Mondavio La quale va avanti con lo smaltimento delle ferie In attesa di capire le evoluzioni del mercato E poi c'è la TVS di Fermignano Sempre nel settore delle pentole Che ha chiesto la cassa integrazione per circa 400 dipendenti Vedete insomma come il quadro non è affatto ottimistico E per questo settembre dopo le ferie Si preannuncia un autunno veramente difficile Vediamo un'altra notizia invece a fondo pagina Sempre del resto del Carlino Ieri a Sant'Andrea in Villis L'Aset ha presentato una delle sue realizzazioni più attese Si tratta del nuovo acquedotto Della nuova rete idrica Sono 150 i nuovi contatori E 500 i residenti Che potranno collegarsi all'acquedotto comunale Finalmente Fino adesso invece non potevano farlo La rete idrica cittadina Si amplia ulteriormente Con l'estensione del servizio Scusate A Sant'Andrea in Villis L'ultima frazione che ancora ne era priva Quindi veramente un grande servizio Per quei cittadini di acqua potabile Non se ne può fare a meno E i giornali questa mattina parlano ancora Della pioggia che trapina Dal soffitto della scuola elementare Rodari Al Poderino Pioggia in classe Tonelli L'assessore Tonelli Che è dimissionaria Dice Nessun ritardo nei lavori Ebbene che cosa è accaduto? E' accaduto che nessun ritardo dei lavori Secondo la Tonelli Sarebbe in atto Abbiamo dato la precedenza Agli interventi di ripristino pre-covida Detto di aule emense La sistemazione del tetto Della scuola elementare È compatibile con l'attività didattica E le infiltrazioni ci sono state A causa dell'alluvione Ebbene l'importo complessivo di questo progetto L'importo di euro Che verrà finanziato E pari a 180 mila euro Da lunedì prossimo Sarà montata l'impalcatura Per il risanamento del tetto Che prevede la sostituzione Della guaina impermeabile Perché ormai fa acqua da tutte le parti E il suo isolamento termico Oltre all'efficientamento energetico Da realizzare con i fondi europei Quindi i lavori sono prossimi Ma comunque c'è anche l'opposizione Che incalza e ha stimolato La giunta comunale Ad intervenire al più presto E sul Corriere Adriatico Si parla della interrogazione Che ha svolto la Lega Il gruppo consigliare della Lega Oltre a una presa di posizione Piuttosto drastica Di Fratelli d'Italia Costi e poco personale E catombe di attività E qui c'è invece un focus Sul commercio cittadino L'assessore al commercio Etienne Lucarelli Dice il commercio nazionale È in crisi E la nostra città È solo lo specchio Di questa situazione Faremo uno studio Ebbene Etienne Lucarelli Annuncia uno studio Strutturato sull'economia Della città Perché il problema Non è da mettere in campo Ad un'azione singola Ma a capire come agire Insieme Ha detto l'amministratore Per farlo però Bisogna capire come cambia La capacità di spesa Dei cittadini La mentalità d'acquisto E qual è l'evoluzione Dei vari settori Merceologici Come si evolve il commercio Digitale rispetto a quello Tradizionale Perché poi gli acquisti Sul web Sono sempre più Numerosi E quindi anche Il commercio cittadino Quello che si fa In via tradizionale Ne soffre Invece Per quanto riguarda Claudio Abbondanzieri Che è titolare Dell'agenzia immobiliare Remax Non occorrono Molti studi Occorre agire Occorre agire E bisogna aumentare Le tasse Sugli immobili sfitti Ha dichiarato Solo così Si incentivano I proprietari A metterci dentro Le attività A prezzi congrui Perché Non è possibile Pagare 3.000 euro al mese Per 40 metri quadrati Così come costa Un negozio Un locale Sul corso cittadino E pensate 3.000 euro Solo l'affitto Al quale poi Si aggiungono Tutte le spese Le spese Delle bollette Le spese Delle tasse Le spese Per l'acquisto Delle materie prime E poi Quanto devono vendere Questi commercianti I loro prodotti Ai consumatori Al pubblico Veramente Una situazione Che è difficile A risolversi Vediamo Un articolo Che riguarda Invece La ciclovia Che parte Da Fano E arriva A Cartoceto Il tracciato Inizierà Da Ponte Murello E si snoderà Lungo il percorso Ferroviario La regione Provvederà All'affidamento Del cantiere Ebbene Ha preso Il via L'iter amministrativo Non i lavori E l'iter amministrativo Per la realizzazione Del tratto Fano Cartoceto Della ciclovia Del Metauro Giovedì mattina In regione Evidenzia Una nota Dell'amministrazione Di Cartoceto Vediamo qui Una fotografia Dell'incontro Che si è svolto Tra il sindaco Di Fano Massimo Seri E il sindaco Di Cartoceto Ricco Rossi E il presidente Della provincia Giuseppe Paolini Ebbene Si è svolto Alla presenza Appunto Di queste persone Si è confermata In maniera Congiunta La soluzione Definitiva Del tracciato E quindi Si è avviato L'iter amministrativo Ad Urbino Ad Urbino C'è una bella iniziativa Dell'archivio di Stato Biodiversità D'altri tempi Per le giornate europee Del patrimonio Urbino Svela Il suo passato Saranno visibili Al pubblico Documenti Sull'antico amore Per la tutela Dell'agricoltura Domani pomeriggio L'archivio di Stato Di Urbino Sarà eccezionalmente Aperto A ingresso libero In occasione Delle giornate europee Del patrimonio Ed esporrà Una serie Di interessanti Documenti Sul tema Dalle 14.30 Alle 18.30 Il personale Accompagnerà Tutti i visitatori Attraverso Tre epoche E tre temi Differenti Allora Si comincerà Con alcuni Editi e bandi Legati Allo Stato Pontificio Del 6 e 700 Finalizzati A preservare La selvaggina Siamo in un Campo agricolo Si passa Poi all'epoca Fascista Con i carteggi E i manifesti Delle celebrazioni Del pane Tenute a urbino Per tre anni Dal 28 Al 30 1928 1930 E infine Verranno Presentate Alcune mappe E piani Per la rotazione Delle culture Redatti Dalle aziende Agrarie Delle Irabe Di urbino Nel secondo Dopoguerra Quindi Tre epoche 6-700 Epoca fascista Epoca moderna Un passato Di urbino Che si svela Al pubblico Una notizia Una notizia Che riguarda Pecchio Tartufo E birra Da Pecchio La grande festa È di nuovo Qui Mentre Pergola Rinuncia Alla sua iniziativa A Pecchio Invece Svolge La sua Quarantesima edizione Sarà l'occasione Per dare solidarietà Alle zone colpite Dalle lubifragio Apriamo Il resto E carlino Anche Nella pagina Pesarese Anzi Diciamo Un po' Regionale Dove si tratta Ancora Della luvione Ora Ci sono C'è un rimpallo Di responsabilità Politiche Tra Miglioranza Maggioranza Tra un partito E l'altro Vediamo il titolo Che introduce Questo argomento Alluvione Il partito Democratico Va all'attacco Ora scaricano Le colpe Sui tecnici Biancani Vitri E il gruppo Regionale Dem Troppa leggerezza Ha detto Pensavano Alla campagna Elettorale Morani L'assessore Raguzzi Dice Che non sapeva Nulla Incredibile Deve solo Dimettersi Vedete come Questo argomento Viene sfruttato Anche a livello Elettorale E qua Abbiamo invece L'istituzione Della commissione D'inchiesta Interna Che il presidente Acquaroli Ha stabilito Per accertare Le responsabilità Lui si dice Estraneo A quanto Avvenuto Perché è stato Avvisato Soltanto Dall'assessore Dunque Dall'assessore Vediamo Un attimo Chi era L'assessore Che la Ecco L'assessore Baldelli L'assessore Baldelli Che di ritorno A Perugia Ha detto Che si stava Cominciando A diventare Critica Alla situazione Del maltempo Nei pressi Della Pennino Poi piano piano Questa si è aggravata Ma non ha avuto Comunicazioni Dalla protezione Civile E appunto Il Francesco Acquaroli Ha così Dismesso Ogni sua Responsabilità In merito A questa Vicenda E purtroppo La mamma Di Mattia Soffre Per quanto È avvenuto Al suo figlioletto Il piccolo Mattia La mamma Torna nel luogo Del dolore Ovvero Nella zona Tra Barbara E Castelleone Di Suasa Per vedere Con i suoi occhi Il teatro Della tragedia Del bambino Ancora Non si è rinvenuta Traccia Dimessa Dall'ospedale Di Senigallia Ieri È andata Dove si è Consumato Il dramma Tra i soccorritori Che stanno ancora Cercando Il suo figlio Finora Sono state Ritrovati Soltanto Lo zaino E le scarpette Del piccolo Ma nessuno Comunque Rinuncia A cercare Il piccolo Bambino E così Si spera Almeno Di ritrovarlo E frontone Abbraccia L'esercito Siamo K.O. Ma ci Rialzeremo È la forza Del coraggio Di questa Gente Che abita La collina Che abita La montagna Nell'entroterra Arrivano Rinforzi Annunciati Nelle località Colpite Dall'alluvione Distrutto Il ristorante Il mandrale Ma il sindaco Daniele Tagnani Dice Siamo gente Di montagna Lotteremo Finché il nostro Paese Non rinascerà Insomma Non si abbandonano Alla disperazione Anche se hanno avuto Veramente La vita Distrutta Cambierà Questa grande Alluvione La vita Dei residenti Di Cantiano Ma anche Di Frontone Di Serra Sant'Abbondio Ebbene Non cedono Non si abbandonano Non si commiserano E quindi Cercano Di rinascere Questo Veramente Un segno Di speranza Poi Vediamo L'articolo Due articoli Di cronaca Che sono Sul Carlino Un record Di condanne Per Un Uomo Che ha Collezionato Tante sentenze Tra cui Una Per abusi Sessuali Su una Ragazzina Si tratta Di Oscar Gelli Di 44 anni E' stato Preso A Madrid E appunto Arrestato In Spagna L'uomo All'attivo Furti Ricettazioni Una serie Di reati Anche Di vent'anni Anni fa Aveva veramente Una collezione Invidiabile E quando Ha capito Che le porte Del carcere Stavano Per spalancarsi Qualche mese Fa Si è dato La macchia Ed è scappato All'estero Ma anche qui Non è rimasto Al sicuro E poi Una lite Familiare Una vite Familiare Ti scavo Una buca E ti metto Dentro Queste sono le parole Che un marito Violento Ha pronunciato Nei confronti Della moglie Ed ora è a processo Per maltrattamenti Minacce di morte Botte Schiaffi Fino alla denuncia Della moglie E quindi Quest'uomo Ora deve rispondere Di quanto ha fatto Di fronte Al giudice Marchetti Lega Vedo entusiasmo Siamo tornati Sui nostri temi Forti Il commissario regionale Dei salviniani Capolista Dell'estino plurinominale Alla camera Vediamo qui Questa pagina Politica Giro le marche La gente È dalla nostra parte Noi in calo Io non credo Ai dati Dei sondaggi Dice Marchetti Martino invece Corre per il senato Nella coalizione Di centrodestra Il ginecologo In campo Dignità al lavoro No all'assistenzialismo Fabri Avvocato Pesarese Candidata con azione Al senato Elena Fabri Lotta al caro Energia E forza All'impresa 4.0 Sono punti di programma Punti di forza Di questi candidati Ormai le elezioni Sono prossime Oggi è l'ultimo giorno Di campagna elettorale Domani ci dovrebbe essere Il silenzio E poi domenica prossima Le votazioni E vedremo come andrà A finire Passiamo Ora La pagina La pagina Al corriere Adriatico Vediamo come Il giornale Apre con La truffa Dei diamanti Affare da 2 milioni e mezzo Scattano 18 denunce Per truffa Bene rifugio Sopravvalutati Coinvolta la banca Di Suasa Il nuovo istituto Risarcisce Oltre 100 clienti Al 90% Per fortuna Quindi la perdita Viene limitata Soltanto al 10% Comunque è una perdita E sono soldi Che non ritorneranno I legittimi proprietari Anche il Corriere Adriatico Parla dell'acquedotto A Sant'Andrea In Villis Opera finita Manca solo la metà Degli allacci La frazione Ringrazia Aset E Comune E ieri è stata appunto La conferenza stampa Un articolo invece Che riguarda Un aspetto Non molto conosciuto Dell'assistenza sociale Di Fano In crescita Sono i minori stranieri Questo tutto In campo nazionale Sono molti I minori stranieri Non accompagnati Che arrivano Con mezzi di fortuna Con gommoni Con barchette Nel nostro territorio Nel territorio nazionale E anche Fano Ospita Questi ragazzi Sono 18 Al momento I ragazzi Che sono ospitati Nel Comune di Fano E che pesano Pesano Sul bilancio comunale Per circa Mezzo milione Di euro 400 Mi sembra 78 Mila euro 478 135 E' il costo Che il Comune di Fano Paga Per il mantenimento Di questi ragazzi E poi ci sono anche I minori italiani Che non possono più Restare in famiglia Per situazioni particolari Situazioni disagiate Che vengono presi In carico Del Comune Insomma E' un articolo Interessante Da leggere Per conoscere Anche questo aspetto Dicevo Non molto conosciuto Dell'assistenza sociale Fanese Ne parla L'assessore Al welfare Di comunità Dimitri Tinti Vediamo Le pagine Del Corriere Per arrivare A quella Della Val Cesano Dalla Val Metauro Dove vediamo Appunto La presentazione Della ciclovia Del Metauro Il tratto Che unirà Fano A Cartoceto Ormai La ciclovia Nero su Bianco E' stata appunto Formalizzata Il tratto Della costa La media valle In regione E' stato firmato L'accordo di programma Con la provincia I comuni di Fano E Cartoceto Piove Dentro la scuola primaria Di Poderino Protestano i genitori E anche fratelli D'Italia Interrogazione Urgente Della Lega E poi A Pergola Il Cesano Adesso fa Tanta paura Dopo quanto Accaduto Assediati Dall'acqua Insofitta Il panico Dei Belardinelli Ora sfollati Hanno avuto La casa Devastata Dal fiume Arrivato Al quinto Degli ultimi Undici Gradini Vediamo La fotografia Che dimostra Come la furia Dell'acqua Sta assediando Questa abitazione Sradicando Addirittura Grossi alberi Rami Che si addossano Poi alle mura Dell'abitazione Non ne riusciranno Mai più A fidarsi Del Cesano Gli abitanti Del quartiere Delle Tinte Così si chiama Il placido Fiume Che quest'estate Era ridotto A poco più Di un rivolo In una manciata Di minuti Si è trasformato In un fiume In piena E ha stravolto Le loro vite Ha invaso strade Giardini Sommerso le loro case Semminato Rovine E distruzioni Ebbene Anche Questo gruppo Di famiglie Ha avuto Grandi Grandi Disagi Grandi danni Per quanto È accaduto A Senigallia Rimborsi Il sindaco Blocca i moduli E Ponte Garibaldi Ora va ricostruito Troppe domande Complicate Domande troppo Complicate Assurdo Puoi chiedere Di pagare La marca Da bollo Per presentare Le domande 16 euro Occorre pagare Per presentare Queste domande È veramente Una tassa Iniqua Il sindaco Blocca i moduli Per i rimborsi Ne vuole di nuovi Più semplici Da compilare Ma soprattutto Senza la marca Da bollo Ebbene Olivetti Finalmente Ha preso Veramente Una bella Risoluzione L'ha fatto presente Ieri Alla ministra Lamorgese In visita Alla città Tra le richieste Avanzate Invece Alla regione C'è il rifacimento Di Ponte Garibaldi Chiuso perché Danneggiato Dall'alluvione Insomma Senigallia Ha molto Da chiedere Allo Stato Alla comunità Nazionale Per i danni E i lutti E i lutti Che sono seguiti In merito A questa Alluvione Moratoria Moratoria Dei mutui Fondi Agevolati Le mosse Della BCC Di Pergola Corinaldo Il CDA Dell'Istituto Di Credito D'intesa Con la direzione Avarato Le prime forme Di aiuto Per i clienti E sono diverse Le iniziative Delle BCC In aiuto Alle popolazioni Che hanno subito I danni Dell'alluvione Anche la BCC Di Fano Ha concorso A questo Sistema Di aiuto Ci saranno C'è una richiesta C'è una Campagna Di raccolta Fondi Per venire In aiuto Ma anche Aiuti diretti Che la banca Di Fano Dà appunto Alle popolazioni Colpite E poi tante Agevolazioni Per mutui E prestiti E poi Diamo un'occhiata Anche Alla Pagina Alla pagina Pesarese Del Corriere Adriatico Dove si parla Di cassonetti Intelligenti Saranno pronti Per fine ottobre L'ipotesi Di raccolta Punti Ebbene Cambia La raccolta Dei rifiuti Solidi Urbani In modo particolare Nel centro storico Si userà Una tessera magnetica Che gli utenti Passeranno Sull'apposito lettore Per aprire Poi Il cassonetto E riporre I rifiuti Si tratta Di un software Di controllo Dei cassonetti Intelligenti Che farà Poi il resto Identificando L'utente Di questo servizio E poi Si parla ancora Di biodigestore Tre comuni Contro Ucchielli Dice E' sovradimensionato Ancora Si parla di questo Impianto Che è un po' Alle spalle Valefoglie Protesta Per lo stralcio Di strada E per la pista Ciclabile Tavuglia Invece Dice no Ebbene Questa era L'ultima notizia Perché poi Abbiamo visto Le altre notizie Che vengono pubblicate Anche dal Corriere Si parla appunto Dell'uomo Che è stato arrestato In Spagna Si parla poi appunto Della Della situazione Della banca E di tante altre cose Che vi invito Ad approfondire Sulla stampa Questa mattina Io qui Mi fermo Vi do appuntamento A domani alle 7 E per le notizie Del giorno Alla TG Di Fano TV Occhio alla notizia Condotto da Simona Zonghetti Questa sera Alle 20 e 30 E questo è tutto Per oggi Vi saluto Buona giornata